Buongiorno a tutti ragazzi, questo è Pamafa Games e io sono GreenyGol Oggi siamo su Minecraft e qui con noi c'è anche Blue Joystick Ciao a tutti The Dropper è una mappa sviluppata da Bygr C'è scritto qua, qua ci sono tutte le impostazioni Sui server non ce ne faccio un cat Dai stavate la stop Ok, ok, ok Non degeneriamo troppo Il video di FNAF ci ha fatto male Andiamo subito a iniziare Ok, this way Reduce lag, qua non ne abbiamo lag Come non detto Ah no perché c'è qualcosa che è l'altra parte attivata Ok, sarebbe stato una cosa Sets bounce save Ok, mi hai settato spawn point, spero che si Level 1 Madness Perché c'è un maiale che c'è? Non lo so, ma adesso lo faccio cadere nel butto Vediamo se ce la fa il maiale ce la faccio anche io Dai, ossa ma torna qua il maiale E' un porco Vabbè Facciamo un livello a testa No, il bottone E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Dai, dai, dai Sarei impossibile allora Vabbè, stavolta a morire non è Ma sono un coglione Ok, ok Scambio Ecco ci siamo con blu joystick Ho messo le cuffie ora Un big boss Adesso è che ho le cuffie Viste che abbiamo solo un paio Si sente il rumore del maiale Si sente il rumore del maiale Aiuto, aiuto, aiuto Beccala qua Ha fatto schifo Seconda possibilità Fai di romagri nico E dall'altro lato Ci rinuncio Scappo Dai, dai Ce la possiamo fare Che non possiamo rimanere noga Sul primo livello Dai Dai, magari il video finisce qui Dai Dai Lalalalalala L'ho già si incontrita in te Quasi Quasi, sì Dove sono morto io Ok, eccoci Sono di nuovo Green Eagle A giocare Dai Carichissimi Buon bici Oh, Dio Oh, Dio Oh Oh Grazie Aspetta Qui c'è la cassa Un diamante al vincitore Abbiamo già Siamo già molti quattro volte Dai Qui c'è la porta per il prossimo Vediamo Adesso ho saltato Io ho fai il solo La porta per il prossimo Ah no, è di qua Dai, siccome ho vinto il prossimo Facciamo una molte a testa Va che è meglio Facciamo una molte a testa Il diamante appoggiamolo qua Che se moriamo C'abbiamo il sederino Set spam point E let's move E Cos'è sta roba Apriamo il cerco Le frecce indicano da sto lato Vai, muoviamoci Mi sto già spaccando il cranio Secondo di livello Dai Oh mio dio Bellissimo Una morta a testa Seconda possibilità Vai, seconda possibilità di Sto livello Ok, poi chiamo qui Adesso, perché la quercia è più grande Non perdi Oh, no, no È una mia possibilità E son morto Eccola qua che arriva Ecco di qua Blue Joystick a giocare E andiamo giuuu Eeeh Perché rido Perché so che la mia morte è il momento Devi tirare Uh, poi c'è Dai, seconda possibilità Seconda possibilità Mi sento molto pimpante Sei pimpante Te la puoi fare Muoro, muoro, muoro Muori, muori Oh E invece È quasi Ok Dai, che dirò Green Eagle Ok, dai Vai Green Eagle Non vestiamo Non restiamo Sei secoli Sullo stesso livello Io ce la farò Perché io può Io può Io può Eeeh Wow Dov'è la cassa col diamante? Ho mantullato il diamante Magari dietro la cascata Dietro la niscian Eccola qua Te l'avevo detto Qua c'è altra acqua Ok Boom Beach Un altro diamante Eh, adesso Usano Magari Magari O Devo usare A quel parte All'altra Non funziona Me lo dirai in testa Quando perdi Ok Teleport Eccoci qua Settiamo lo spawn Mettiamoci il diamante lì Mettiamoci il diamante lì Ok Mettiamo il diamante lì Andiamo ad aprire Non mi è piaciuto il rumore Not like the sound Di cosa hai? Di cosa dovete fare? C'è E ti apre la porta Apre la porta Ah Nuova scoperta Bebbi Giusti Ok Eccoci qua Pronto In the middle Nel centro No C'ho paura Non è vero Così Posso scendere le scale? A me piace troppo Così Wih Oddio Oddio E chi lo becca? Io E chi lo E stavo anche andando giù Seconda possibilità Vai seconda Vai Giù Giù Alla cdc No No Ci fuori dell'agra Ci fuori dell'agra Lì c'è la cassa Lì c'è la cassa Oh scoperta Daca a me Ciao Ora ho le cuffie E anche se non lo dici Tanto lo taglio Ecco qua Blue joystick Perché lo tagli? Si prepara Salto Salta Tanto muore Di che coloro Che la vuoi la baga? Blue joystick Blue E invece E volevi Che faccia E invece E torna in acqua Porco gatto Ho visto qualcosa di strano Prendi il diamante E poi ti tuffo Dov'è la cassa? Porco gatto Oh non insultai che è gatto Eccola Che ti nascondevi Cattiva Volevi 11 fail 11 fail 11 fail Dai muoviamoci Andiamo Dai corri corri Dobbiamo onorarci Di queste morti Dai che Mi c'è C'è l'hai fatta Per un bug C'è l'hai fatta Tipi Tipi Ma non va più Si è buggato tutto Ok no La seconda possibilità L'ho vinta Quindi tocca sempre Eeeh Va bene Faccio anche tocca a te Sei Che come si chiama sto livello? Livello 5 Mine Eh Pigniere Ah già Che in inglese Mi stavo già preoccupando Che fosse pieno di Tocca a me Eeeh Yeeeh Sto cercando Sì Ok Non è che non è Ma quanto non sente Il mio Mi Vai giù A blu giù Non piacciono le miniere Evidente Eh Se muori Mi Oh 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 Eccola La sola Virgona E come si Era Eっと O E E non so che riloggiare non so che riloggiare cazzo ti metto il bambino palestiano ok no, non faccio tutti io mai tutti gli scorso e ti stai cagando ehm si, ritorniamo ok ok, vai, vai no, sono bloccato ok, ok com'è l'hai aggiunto? va bene eh magari non so che non so che non so che vediamo un po' è un'altra giusta è un'altra giusta è un'altra giusta è un'altra giusta è diventa un uomo è diventa un po' è diventa un fisso umano veramente fisso umano è un pescatore vai, lì, sta il poetico oh ma peccato, ma vaffanculo tra un po' salivo nel terreno vaffanculo, adesso deraia mi ha guardato male, io scappo diamante, ok adesso ti butti giù no, no, no madonna, se cadevo giù e morivo no, 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 vissi la vita facciamo bibbio ok, dai, aspetta, devo posere il diamante che c'è muoio e salva perché hai bagliato sta mappa? hai bagliato veramente ma dov'è il coso della cassa? è di qua mettici il diamante e risalva perché no no, questo si fa lo spawn no, no si fa lo spawn mappa, Minecraft si salva ogni volta che c'è qualcosa ogni volta che c'è qualcosa se fatti la scena del computer, Minecraft sta salvato come dice Red, anche se se dividi in due è il computer eh, Minecraft salva curten non so cosa significhi vabbè, io prendo il dicionario e c'è il cucurten tanto qua non si apre, ma perché non si apre? il bottone è rimasto schiacciato in dentro ma cos'è, ma di in Cina sta mappa o cosa? non mi va da ora non va giù ok, ma perché è piena di bug? why, why, cruel world, why? ripremi sul bottone ok, ho sentito tutti i click dei bottoni si, ma non salta in là che è blue joystick salta, salta ok, vediamo se adesso va i bottoni sono tornati su ho fatto un click solo ok, oddio ah ok, mi pareva di non essere molto è che è troppo, dai, secondo tentativo secondo tentativo, maestro maestro, secondo tentativo il bottone rimane schiacciato e la bocca è aperta ok, vediamo com'è laggiù c'è il mondo che si crea c'è lo specchio ah, qui, qui non sono morto viva i bug adesso muoio, è tre no, sono in acqua, quindi non muoio vediamo se prendo data no viva i bug viva i bug dai adesso appena prendo il diamante muoio dove è la cassa? che bello, l'ha fatta proprio bene aspetta che si crea tutto il bagno che arriva il piastrellista ci caccia qualche piast... è la... dove è? la cassa eccola qui questo diamante non lo prenderei ovviamente meno male che non è nel cesso se no magari il prossimo fratto è nel gabinetto no dai, non portare sfiga, Blue Joystick penso se dobbiamo saltare nel gabinetto dov'è l'uscita? c'è qualche buco di topo? magari ne andiamo... faccio squizquiz se che c'è chi va lassù? ehm si, va bene come dici tu, Blue Joystick ecco qua la porta questi topi c'hanno la porta in metallo eh non so come possa fare il disinfestatore ci manca il metal detector dentro le trappole per il disinfestatore si vendicano contro il maltrattamento dei topi adesso va non so come mai girato dal lato bastiano some hole are close ah, si, giusto che qua ci muoio di sicuro ok alcuni buchi sono chiusi ok chiuso oddio, qual è la X? sarà chiuso o aperto? chiuso dici ok, quindi questo in alto a sinistra ok adesso proviamo, eh se in alto a sinistra è aperto ok, la X è chiuso, Blue Joystick dai, lo lascia a te grazie ma porca ok vediamo se Blue Joystick sa che è ingannato di fare qualcosa di meglio ok bravo, sul bo è morto, eh vabbè dai seconda possibilità nessuno dei quattro meglio seconda possibilità cioè io non ci caso sì ma ti sei girato no ma sono livelli sono livelli vari tutti i cartelli sono una sequenza aspetta aspetta vuoi provare ancora una volta il primo è bloccato in alto poi nel secondo giro questi due sono bloccati nel terzo questo è bloccato nel quarto questi due sono bloccati nel quinto ok, sì sì chi se lo è risolto? aia 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 porca minchia aia aia dai dai forse a me aia 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 no penso se qualcuno che ascolta il video ci fa bene aia aia no ok aspetta memorizziamo saltiamo in alto a destra in alto a destra in alto a destra in alto a sinistra in alto a sinistra destra 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 sinistra sinistra e questo ok mi ero perso un po' va bene ci è andata pure di culo per l'ultima cosa qui sento dei polli e siccome io sono un fan di lion io i polli li stermino tutti i polli c'è una casca e c'è un buco nascosto vai di là dove? bellissimo ci sono dei vari bucchi ah boh no hai fatto qualcosa di casual dov'è il polli là? c'è un pollo picchino c'è la critica e vieni qua vabbè c'ho c'ho che non c'è prendete qualche dolce non me le droppano sed life green eagle ah te le trasporti ok ha smesso di laggare salviamo vabbè gli spam point gli ho trago 8 puntini puntini don't like this vai no c'è la tassa no ma perché doveva avere ragione perché doveva avere ragione oh la 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 della tassa del gabinetto un attimo un attimo dai second launch la 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 dai niente sono lo stesso angolino passa blue joystick passa le cuffie passa blue joystick ah ora con le cuffie mi sento meglio no perché io accucciati anche adesso accovacciati avevo visto quella macchia fuori d'acqua se prova a saltarci ma dove macchia fuori d'acqua lì vedi ma ma questo te lo sconsiglio salta dentro dopo il più stabilito che tu vada la 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 sei morto sono sono baggata sei morto ma donna ma sta mappa è più baggata ti manca la protessa ma non vi fai il cesso no il gabinetto mi fa schifo ahia ma cosa ci vuole oh scusami passami in macchina oh oh si si passa nel cesso eh senti c'è una barca mi hai venuto un'idea mi hai venuto un'idea naviga nel gabinetto no no non mi hai troppo più difficile anzi così solo se sbaglio il spazio è vero andiamo rompiamola così bene si mi ma do le idee chi sei che hai avuto rompilo raga l'idea che hai avuto con la perezza no l'idea che hai avuto che stiamo corrompo la mappa il vincone di diamante stiamo arrivando fai la crafting table mi faccio il vincone di diamante e qui si che sono pollo 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 dietro sbattere ma che schifo perde pure perde pure sbattere sbattere eh per fortuna se noi arrivavamo lì spettivamo non so andavamo giù dallo scalco eh metti fai la crafting table che ho accesso che è già un bel posto di riunione ah ho vinto ho vinto io tocca a me eh scusami scusami me l'ho preso dai miei progetti eh progettati te un altro pollo no lo joystick non si raccolgono le uova dei polli senza se non lo un uovo di pollo adesso nasce un pulcino ecco e invece eh volevi diamante in mano lancia il diamante pam no non lancia che niente ok prendi ma vabbè dai si ma facciamolo un attimo che cosa è sta cassa oh 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 guarda 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 un po' come si chiama il prossimo livello perché io la vedo intanto arraffo tutto bravo così se cadi perdi tutto ottima idea ehm forse meglio di no che se cadi perdi tutto vabbè salva salva sette spam point eh oh no dai mi passi a me no please butta tutto qui per evitare basta tu mi che voglio rifare troppo la mappa no 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 faccio io il piccione è il mio turno cattivo ma perché lo butti per te così vedo ma perché apri il menu vedo che sei bravo eh blue joystick e l'attento che non gioca mai ti vedo abile disabile ti vedo abile due volte quindi ti vedo disabile ok dai dopo apure la luce faccio un mega traslet i cricconi si fa così i cricconi si mettono tre diamanti sopra lo so no quella è la zaba ecco bravo ma lo prendi un attimo aspetta aspetta è questo è per i polli questo è per i polli lascia ah no la spada la spada poi anche lascio in caso di me no ma che non sprecavi tutti i diamanti che ti seguono poi alla fine niente 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 però almeno griffiamo ok dai vai livello dove è la cassa che c'era l'ho vista su adesso devi salire tutte le scale ok adesso troppo griffiamo no aspetta aspetta come si chiama livello eh 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 livello si chiama passo dopo passo oh no mi sa di conoscerlo oh sì 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 noi facciamo i trasgressivi vediamo cosa c'è dietro questo muro vediamo ci sono ingrattati un bel piccone di diamante no forse vuoi meglio non rompere che distruggiamo la mappa ci sono la riusciamo fuori facciamo i trasgressivi trasgressivi che bello guardiamo dal vetro mi tra un po' cadi in sto buco che cosa stai cado qui muoio perdo il piccone di diamante ma questo è quello del cesso rompi il vetro e cadi giù qui ci sono dei common block ok no superiamo il livello questo qua c'è il tetto dovevo su questo sì di lana vai corri corri dove siamo entrati eh da qua questo è il che cosa da noob spaccare la lana quel piccone di diamante eh sì no da dove siamo entrati torniamo a che abbiamo rotto tutto dove siamo entrati abbiamo perso il posto dove siamo entrati va bene basta che ci uccidiamo ci abbiamo risposto no entriamo da qua ecce trasgressivi aah qua non c'è l'acqua porca ah sì è un livello già le faccio la cosa di qui scusate è che è dentro il bus d'acqua ah però almeno ah c'è chi più in ventoli mi sa che abbiamo mantenuto tutto passo dopo passo andiamo cosa farai io ok boh torniamo all'inizio va vai che turn abbiamo baggato tutto griffando ok perfetto we are genius no ma lì c'è la scala dove porta a livello precedente non porta all'inizio vabbè concludiamo qui il video senza tornare all'inizio perché abbiamo distrutto tutti quindi siamo bloccati ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi